In un'operazione antidroga condotta dai carabinieri di Ivrea, un uomo di 45 anni è stato denunciato per detenzione di droga. L'azione è scaturita da un attento lavoro investigativo che ha portato i militari a effettuare una perquisizione in un cascinale in disuso situato in una zona boschiva di Pratiglione. La proprietà del cascinale è al momento oggetto di accertamento. L'uomo è stato scoperto nell'atto di coltivare una piantagione di marijuana all'interno dei locali di Biti a Serra. La struttura era dotata di un articolato sistema di illuminazione con apposite lampade, ventilazione avanzata e regazione tramite sistema idraulico. Il tutto risultava alimentato attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica. Durante la perquisizione sono state trovate infiorescenze di marijuana gesticcate 153 piante di cannabis in stato vegetativo. Inoltre sono state confiscate varie attrezzature del giardinaggio e il cascinale è stato stuposto a sequestro, mentre i danni sono ancora in corso di quantificazione. Droga è stata scoperta anche in Silio. Nel corso di un regolare servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Valchiusa hanno denunciato un 33enne. L'operazione è avvenuta il 23 novembre quando i militari l'hanno sottoposto a una perquisizione domiciliare. Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati hashish, eroina, chetamina e marijuana. Inoltre è stato scoperto un bilancino di precisione e la somma di 210 euro. La presenza di diverse sostanze superficienti degli strumenti per la pesatura fa supporre un'attività di spaccio.